Iniziato il gioco, allora ora i tre concorrenti dopo aver riempito con una seringa i palloncini dovranno andare nel riquadro e gettare i palloncini a una persona che sta sopra quella pelana a raccogliere Come non fai tu? Tu andai a fare i palloncini Un pescatore viene per male, eh? Brava Marina! Grazie 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 Finora solo un palloncino non è andato a segno, tutti gli altri sono stati presi con il retino, il primo concorrente ha terminato i suoi palloncini, Paolo ha terminato i palloncini Anche il secondo concorrente rimane l'ultimo Stop, terminato il tempo